Movimento 5 Stelle Senato Vice Nunez, prego Grazie Presidente, noi con l'emendamento chiediamo di sopprimere l'articolo 1 per evitare la Costituzione del Comitato in quanto siamo preoccupati di questo procedere in deroga e per urgenza e siamo preoccupati di essere così soli ad essere preoccupati e siamo preoccupati di sentire da Enrico Letta il 5 giugno 2013 dire ciò che stiamo facendo è dovuto a uno stato di eccezione Stato di eccezione o stato di necessità? Bisogna stare attenti alle parole e ai lapsus eventuali Quale stato di eccezione? voleva indicare il Premier Cos'è lo stato di eccezione? Lo stato di eccezione, signori, è uno dei concetti chiave dell'ontologia politica di Carl Smith Contrapposto allo stato di diritto in quanto si configura appunto come una situazione in cui il diritto è sospeso I tre poteri fondamentali unificati Non voglio forzare il ragionamento ricordando chi e quando utilizzò lo stato di eccezione come soggetto politico che pretende per sé il controllo totale in ogni ambito della società Lungi da me Ma signori, bisogna stare attenti alle parole, soprattutto in questi anni difficili di continuo e sistematico attacco alla centralità del Parlamento Sono orgogliosa, signori, di essere dalla parte di chi in queste Aule porta indefessamente il diritto di esistenza di resistenza, di cittadini che sono fuori, spesso senza parola Grazie Grazie L'illustrazione